100 anni dalla nascita di Jorgy Ligeti, compositore ungherese scomparso nel 2006 e 70 anni dalla nascita del compositore austriaco, ancora vivente, George Frederick Haas, protagonista anche della vicenda Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Alloro l'omaggio da parte dell'orchestra di Matera della Basilicata con il concerto Masterworks, capolavori del nostro tempo, l'evento, organizzato dall'AMS a coronamento della stagione concertistica del 2023, celebra due delle figure più eminenti della musica del ventesimo e del ventunesimo secolo. Haas, che è un sondaggio della rivista Classic Voice, ha decretato il più importante compositore vivente al mondo, ha composto nel 2019 Music for Matera, un ciclo di brani commissionati dall'AMS Matera e Fondazione Matera Basilicata 2019, nell'ambito del progetto Voices of Spirits, una produzione insignita del prestigioso premio della critica musicale a Biati. Il concerto è stato quindi l'occasione per riproporre, a distanza di cinque anni, dalla prima assoluta una delle partiture di Music for Matera. Anche Ligheti, di cui è stato eseguito Kammer Concert, è unanimemente considerato come uno fra i più grandi compositori di musica contemporanea del ventesimo secolo. Alcuni suoi brani furono scelti da Stanley Kubrick come colonna sonora di pellicole memorabili come 2001 Odissea nello spazio, Shining e Eyes Wide Shut. Questa iniziativa è sostenuta anche selezionata dal Ministero della Cultura quale progetto speciale 2023.